Un saluto a tutti i videoutenti di Italia Medievale. Oggi presentiamo un bel saggio pubblicato da Mimesis edizione da pochissimo dal titolo La società dei poeti per una nuova sociologia dei trovatori di Simone Marcenaro che abbiamo il grande piacere di avere il nostro gradito ospite al quale io come mia abitudine lascio subito la parola perché ci parli di questa società dei poeti. Prego professore a lei. Grazie, grazie dell'invito innanzitutto. Perché società dei poeti? Perché la cosa particolare, una delle tante cose particolari della poesia dei trovatori in particolare stiamo parlando dei trovatori occitani, trovatori che scrivevano, componevano e cantavano in lingua provenzale antica o citano antico che dir si voglia, sono fondamentalmente una classe sociale, cioè sono un gruppo piuttosto nutrito di scrittori che inizia dalla fine dell'undicesimo secolo più o meno fino al trecento inoltrato, che fondamentalmente è accumunata, diciamo così, dal condividere una serie di strumenti tecnici, cioè gli strumenti della poesia, gli strumenti della composizione musicale, indipendentemente dalla classe sociale da cui derivano, dalla classe sociale di riferimento. Abbiamo nobili, abbiamo piccoli vassali, abbiamo borghesi, abbiamo addirittura prelati o chierici, quelli che vengono definiti nelle fonti medievali giullari, ma che in realtà non sappiamo esattamente da dove venissero. Uno dei trovatori più importanti che è Giraud de Borneglie, viene definito un maestre, cioè probabilmente un insegnante di scuola, oggi lo chiameremo così. Quindi provenienze sociali disparate, ma l'ufficio trovadorico, cioè il saper comporre, cantare, portare in giro questa poesia per le corti, li rende una classe sociale. E quando parlo di classe sociale non mi riferisco tanto alla classe marxianamente intesa, quanto piuttosto al concetto della sociologia moderna, contemporanea, di gruppo sociale, ovvero sia una serie di persone, un gruppo di persone che condivide un certo tipo di conoscenze reciproche, di saperi e che quindi si configura come un gruppo unitario. Ebbene, fino a quel momento nel Medioevo non c'era mai stato un gruppo sociale di scrittori accomunati dagli stessi saperi e, diciamo così, dalla stessa appartenenza culturale a discapito della massima, veramente massima variabilità prettamente socio-economica. E il teatro in cui si esplica, diciamo così, la creazione e il consolidamento di questa classe sociale sono le corti, le corti medievali, soprattutto le corti del sud della Francia, che funzionano davvero come una sorta di luogo in parte concreto, ma soprattutto luogo ideale, uno spazio simbolico dove il congegno di questo gruppo sociale può funzionare e proliferare, diventare l'esempio fondamentale di poesia europea in tutto il Medioevo. Allora, vediamo se ho studiato. Il primo è Guglielmo IX, quello che viene commercialmente considerato il primo trovatore, è Guglielmo IX d'Aquitania, cioè il padre di Guglielmo X, il nonno di Eleonora d'Aquitania, che sarà colei che poi darà un forte impulso a questo tipo di poesia, se non mi tradisce la memoria. Sicuramente Guglielmo è il più antico che abbiamo, non è detto che sia il primo, però di sicuro si situa nella fase più antica. E la cosa interessante di Guglielmo è che Guglielmo non era di lingua occitana, perché Guglielmo stava a Poitiers, nel Poitou, che è vero, nella sua parte meridionale ha delle parlate, diciamo così, che stanno un po' a metà fra la lingua d'Oil e la lingua d'Oc. Però è molto particolare che il cosiddetto primo trovatore fosse madrelingua, diciamo così, francese, se vogliamo semplificare, e non occitano. Cosa interessante, lei ha citato Eleonora d'Aquitania, in realtà il fatto che Eleonora fosse una protettrice dei trovatori è un po' tra virgolette un mito, perché ce lo dice Andrea Cappellano, ma in realtà i documenti storici non ci lasciano questa idea così chiara. Quindi è molto interessante, semmai, andare a vedere come altre figure femminili meno importanti economicamente e politicamente di Eleonora d'Aquitania, però molto importanti nel loro territorio, come per esempio Ermengarda di Narbonne, di Narbona, che è forse la figura più interessante in questo periodo, siamo a metà del 1100, metà del XII secolo. Ecco, non c'erano solo i signori di queste corti, c'erano anche le signore che molto spesso detenevano proprio il potere politico e quindi in qualche modo fungevano da protettrici dei trovatori e anche in qualche modo estimatrici, probabilmente se non lettrici, perché al tempo la poesia non si leggeva, uditrici, fruitrici, diciamo così, attive della poesia trovadorica. Qui si schiude tutto un panorama interessantissimo e sarebbe curioso capire come mai parte proprio da quel territorio, cioè che cos'è che quel territorio ha di così particolare da favorire la nascita di questo fenomeno? Beh, diciamo che come sempre quando si tratta di un fenomeno culturale non c'è mai una ragione sola. Sicuramente l'ambito storico-politico era molto favorevole perché rispetto al nord della Francia, i territori del sud, non subivano, diciamo così, quel processo di centralizzazione del potere nella figura del re. Di fatto si trattava di tante piccole, chiamiamole signorie, feudi, contè più propriamente, che avevano un forte grado di autonomia, autonomia politica, autonomia anche finanziaria perché insomma la terra del sud, soprattutto quelle che si affacciano sul mare, sono tendenzialmente più ricche perché possono avvalersi dei commerci, tutta l'economia diciamo che ruota attorno al settore marittimo. Inoltre dal punto di vista anche climatico e quindi agricolo erano più fortunati, diciamo così, di altri territori e quindi in qualche modo questa autonomia politica, che gli storici a volte chiamano frammentazione in un sistema che è chiaramente il sistema feudale, faceva sì che ogni corte avesse in qualche modo la sua identità e in questa identità entrava anche il poter accogliere e anche far sviluppare questo movimento che è il movimento dei trovatori. Probabilmente lo dico nel quarto capitolo, l'uso proprio della lingua citana, della lingua provenzale è in qualche modo un veicolo, ok? Un veicolo di identità, identità culturale, che poi con la famosa crociata contro gli albigesi in qualche modo si mostrerà nel suo versante più drammatico. E invece dal punto di vista del pubblico di questi personaggi andavano di corte in corte, erano stanziali, si rivolgevano ai loro signori, erano anche nelle piazze per dire. Il problema del pubblico dei trovatori credo che sia uno degli aspetti più interessanti. Sì, e tra l'altro proprio il pubblico dei trovatori è il nome di un saggio della mia maestra, che è Maria Luisa Meneghetti, che ha scritto la prefazione di questo libro e che cura anche la collana nel quale il volume è uscito, che proprio si era posta per prima questo problema ed è un problema che ricade proprio in quello che si diceva prima, cioè per capire la poesia dei trovatori è fondamentale capire come funziona una corte. Il problema è che noi abbiamo pochissima documentazione concreta su come effettivamente funzionavano queste corti del meridione. Ne abbiamo molte di più per il nord della Francia o per altre zone anche extra galloromanze, diciamo così. Invece la documentazione sì c'è, però come effettivamente funzionasse ci sono ancora molti, diciamo molte zone oscure, però quello che sappiamo è che la corte è uno spazio sociale che io definisco ad alta funzionalità, cioè ciascuno ha un ruolo ben preciso, a partire dai valletti, servitori, cuochi, gli staglieri, diciamo le persone che occupano i gradi più bassi della scala della gerarchia sociale della corte fino ai livelli più alti, cioè il signore, la signora, i consiglieri politici, coloro che sono dedicati alla difesa. Ecco, i trovatori entrano in questo sistema come girovaghi, cioè fanno parte della corte ma non hanno, diciamo così, un posto nel budget della corte, ok? Cioè fondamentalmente loro possono stare soltanto un certo numero di mesi o di anni, dipende poi da tantissime circostanze, perché non sono organici alla corte, sono fondamentali per il buon funzionamento culturale, diciamo così, della corte, ma nessuno di questi trovatori è mai organico a una corte, cioè nasce e muore fondamentalmente in quella corte, questa è una cosa molto interessante. Il pubblico è il pubblico cortese, cioè tutti coloro che stanno nella corte, trovatori di piazza, sì, chissà, può darsi, ci sono alcune testimonianze che ci dicono di come le poesie diciamo più famose, quelle che circolavano di più, uscivano anche dalla corte, grazie più che ai trovatori ai giullari che le portavano in giro assieme a tante altre cose, ma anche qui davvero le testimonianze o sono poche o sono tarde, la più importante è quella di Lovato dei Lovati, ma siamo già in un periodo in cui la poesia trovadorica si stava ormai, anzi si era di fatto ormai esaurita, che diceva che in Veneto i giullari si cantavano a pubblica piazza, ma non le poesie dei trovatori, bensì le storie di Carlo Magno e Rolando, quindi insomma c'è ancora tanto da comprendere, da capire, ma bisogna partire, il punto di partenza, il punto d'arrivo è la corte, la corte feudale del sud della Francia, inizialmente poi anche oltre, perché sappiamo che molti trovatori vanno nelle corti nord italiane, a partire da quelli dei marchesi di Monferrato e poi lungo tutto l'asse Lombardo-Veneto o Toscano con i Malaspina per esempio, oppure vanno dai re spagnoli o dei grandi nobili spagnoli, insomma il modello sociale del trovatore poi si espande e dà addirittura vita a nuove scuole, la scuola galego-portoghese che compone in galego-portoghese, i trovatori del nord della Francia che compongono in antico-francese, insomma sono proprio un modello culturale e sociale. E dal punto di vista della diffusione influenzeranno anche altre scuole, io presumo, per esempio hanno mai avuto rapporti con la cosiddetta scuola siciliana? Eh certo, certo che sì, anzi la scuola siciliana di fatto nasce in parte traducendo, proprio traducendo letteralmente, in parte ispirandosi fortemente, ci sono tantissimi studi che lo dimostrano in maniera inequivocabile, proprio i trovatori, cioè è diciamo l'anello di congiunzione fra la poesia trovadorica e quella che poi diventerà un'altra poesia. Anche qui i siciliani in realtà non conosciamo molto perché sappiamo che la gran parte, non tutta, ma la gran parte della poesia siciliana che leggiamo, la leggiamo grazie alla toscanizzazione di questa poesia quando si è spostata verso la Toscana nei manoscritti che oggi possiamo ancora leggere, quindi non conosciamo per esempio bene la lingua originale, il siciliano originale di queste poesie, però sì sappiamo che quasi sicuramente, anche se non abbiamo prove certe, ma ci sono molte piste che ci parlano di questo, diversi libri, diversi canzonieri provenzali erano finite la corte di Federico II e qui questi grandi intellettuali che loro sì erano organici alla corte di Federico e come se lo erano, si dilettavano appunto a prendere spunto quando non proprio traducendo dei poeti provenzali e poi da lì arriverà in Toscana e nascerà tutta un'altra storia. Beh è davvero un fenomeno, c'è ancora molto da scoprire secondo lei o abbiamo tutto quello che si può immaginare di sapere su questo fenomeno dei trovatori. Ah no, da scoprire c'è ancora tanto anche perché quando si parla di Medioevo noi facciamo un po' sempre un'opera di archeologia, mettiamo insieme i cocci che sono le poche fonti che abbiamo e cerchiamo di costruire un quadro verosimile. Una cosa per esempio che sarebbe ancora molto da fare sarebbe proprio andare a capire qual era l'impatto dell'elemento femminile, cioè sì noi sappiamo che la poesia dei trovatori è basata sul fatto, la poesia d'amore dei trovatori poi scrivono anche di tanto altro, ma quelli che scrivono d'amore hanno questa idea della donna elevata che non possono mai raggiungere perché è troppo perfetta e quindi non si può mai arrivare ad amarla compiutamente e questo probabilmente è dovuto anche al fatto che la figura femminile a livello politico e economico, come dicevo prima, nel sud ha una preeminenza particolare rispetto ad altri territori, ecco dal punto di vista proprio storico-economico bisognerebbe approfondire un po' di più questa questione anche legandola ai cosiddetti studi di genere che potrebbero dare anche dei risultati interessanti, quindi la ricerca storica, la ricerca linguistica ancora oggi si dibatte, ho cercato nel quarto capitolo di fare un po' il punto di vista su questa situazione, su quale fosse effettivamente la lingua dei trovatori, perché noi sappiamo qual è la lingua dei manoscritti e non la lingua dell'originale, perché non possediamo nessun originale, quindi c'è ancora tanto da fare, sono tantissime poesie, molti autori, più di 250, 260 circa, se non sbaglio, adesso, no, cosa dico, 460, chiedo scusa, e quindi per carità, tantissime tesi dottorali di giovani studiosi, fra cui una mia allieva che appunto 5 minuti fa ho lasciato qui a ricevimento, si occupano proprio di queste cose, cioè è un fenomeno che piace ancora agli studenti, piace ai ricercatori, piace a chi si occupa di questa cosa, perché è la base, è il fondamento della poesia moderna, non capiremmo Dante, ma non capiremmo neanche Leopardi o Ezra Pound, se non conoscessimo i canzonieri dei trovatori, questo è indubbio. Beh, allora io direi che bisogna correre a comprare il libro, perché tutto quello che qui abbiamo riassunto in una brevissima chiacchierata, lì lo trovate compiutamente esposto, e quindi io ricordo il titolo, che è La società dei poeti, per una nuova sociologia dei trovatori, di Simone Marcenaro, pubblicato da pochissimo, da Mimesis edizioni, e quindi correre assolutamente in libreria e farlo proprio è la cosa più saggia che potete fare. Io ringrazio tantissimo l'autore. Grazie a voi. Ricordo a tutti di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube, dove troverete tutte le videopresentazioni che abbiamo realizzato finora, e arrivederci alla prossima. Arrivederci, grazie ancora.